Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dai fallimenti e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale, io avrò cura di te. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Grazie. Che bella questa canzone, bravo Paolino. Bravi voi. E la tua band, non l'abbiamo applaudita abbastanza, la big band. Bravi ragazzi. E allora, ci raggiungono gli eroi di Teleton a cui abbiamo dedicato questa particolare serata, ma se la meritavano tutta e ve la meritate anche voi a dire il vero perché state regalandoci questo sogno di essere quasi, insomma non lontani dagli 8 milioni di euro, però insomma noi continueremo a chiedervelo di donare perché siamo qui apposta, insomma siamo qui per i ricercatori, siamo qui per fare del nostro meglio. Domani la maratona continua tutto il giorno, ci saranno tanti appuntamenti speciali a parte domattina su Rai 1, su Rai 2, mattino in famiglia, medogiorno in famiglia, poi domani ci siamo noi dalle 14 su Rai 2 per tutto il pomeriggio, poi c'è lo speciale, Margherita Grammassi, vieni Margherita, poi ci sarà lo speciale dei soliti ignoti in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni come investigatori. Penso che succederà, succederà di tutto. Io sono preoccupato per il conduttore, poveretto. Guarda anch'io, non vorrei essere i nostri panni. No, anch'io, anch'io. Comunque succederà di tutto e poi domani sera che succede qua? Luca Barbarossa, Max Giussi ci verranno a trovare assieme a noi, insomma faremo tanta festa perché comunque fare solidarietà lo si può fare e si deve fare anche col sorriso sulle labbra. Mi dicono, mi dicono che questo è l'orario migliore per donare con la carta di credito. Brava, brava. Non chiedetemi perché, ma se donate adesso andrà benissimo tutto, tutto, tutto. Sì, ma il numero? Il numero è sempre lo stesso, il numero verde, carta sì, 811 33 77. Facciamo salire il più possibile questo nostro numeratore. Naturalmente dobbiamo dire grazie a tutti quelli che da stamattina alle 6 hanno fatto gioco di squadra in Rai su tutte e tre le reti, tutti fantastici, grazie di cuore. Tra l'altro Mara Venier che oggi ha fatto la vita in diretto insieme a Marco Liorni domani sarà con noi dalle 19 su Rai 2 sarà. Insomma si gioca di squadra, la Rai fa un grande gioco di squadra. Insieme si può. Però il gioco lo si vince solo se poi anche i nostri amici da casa gioccheranno con noi ma facendo un numerino 45502 è il codice segreto per la vittoria. Mara Venierita, vista questa età che tu hai tanti tifosi, hai tanti appassionati, appassionati anche del tuo fascino. Ti prego, ti prego. Sicuramente questa è l'occasione per tutti di diventare un eroe di Teleton per cui io suggerisco a tutti quanti di prendere il telefonino in mano in questo momento e mandare un sms al 45502, mi raccomando aiutateci. Grazie di cuore, continuate a donare anche stanotte se non dormite, se dormite sarà difficile ma insomma... E' nell'insonnia, insomma... Esatto, a tutti gli insonni sanno cosa fare, grazie a tutti 45502. Grazie. Grazie.